Seduta di allenamento al partito dei Lombardi per l'avellino di mister Michele Pazienza. Prima seduta per il nuovo acquisto Daniele Liotti che ha svolto gli esercizi tecnico-tattici con il gruppo squadra Biancoverde. Out Federico Casarini, vittima di un infortunio muscolare, e Gabriele Gori, influenzato. Si è rivisto Jacopo Dalloglio che ha corso a lì del campo proprio con l'ultimo arrivato in rosa. Cancellotti ha svolto seduta a parte, mentre Raffaele Russo si è allenato in palestra. I portieri hanno svolto lavoro con lo staff e poi tutti insieme, nell'ultima parte della sgambata, hanno svolto la partitella in famiglia a ranghi misti. In questa circostanza il gruppo è sembrato affiatato e particolarmente pimpante. Ad ogni rete siglata sorrisi e abbracci hanno fatto da cornice all'allenamento e alle marcature. Davanti ai tifosi, mister Pazienza con Chicco Patierno, hanno salutato i supporter sassiapati in tribuna Montevergine perché il feeling città e provincia con la squadra va sempre più consolidandosi.